Una delle più suggestive celebrazioni del ritorno della primavera, in particolare del mese di maggio, è il rituale del Verde Giorgio, un rituale assai diffuso nei popoli dell'altra sponda dell'Adriatica, in particolare nell'area slava, con il quale si simboleggiava il ritorno di maggio vestito di verde con un fantoccio, o meglio con un ragazzo il quale veniva ricoperto di verde e che girava, accompagnato da altri ragazzi, casa propiziando l'arrivo di maggio e propiziando soprattutto la pioggia particolarmente benefica per la campagna a maggio. Si tratta, come si diceva, di una celebrazione suggestiva del maggio che è pressoché sparita, se non con qualche residuo, fra le comunità di origine slava del Molise. Noi abbiamo trovato tracce del Verde Giorgio, cioè di questo andare in giro con una rappresentazione del Maio, così è chiamato appunto in Abruzzo, avendo anche dei doni, abbiamo trovato qualche residuo a San Giovanni Lipioni, nell'Alto Vastese, quasi ai confini del Molise. Qui appunto da ogni anno viene portato il Maio, casa per casa, ad opera di una comitiva di persone. Molti ritornano esclusivamente, proprio appositamente, per partecipare a questo maio di Roma o anche addirittura dall'estero e la rappresentazione del maggio ha qualche cosa di veramente suggestivo. Quasi vero ricollegando questo Maio all'antico rituale del Verde Giorgio con tutti gli aspetti nuovi che possono considerarsi nelle immagini che vi presentiamo. Grazie a tutti. Nel folklore europeo, il ritorno del mese di maggio veniva celebrato con feste e rituali, canti e danze in cui si propiziava, nel rigoglio della stagione primaverile, la fertilità della terra e messi abbondanti. Dalla letteratura etnografica si conosce, diffuso un po' ovunque, il rituale del Verde Giorgio. Un giovinetto veniva ricoperto di ramoscelli, fiori, foglie e girava per le case, la vigilia del giorno di San Giorgio, il 22 aprile, con un seguito di ragazzi che cantavano annunziando l'arrivo di maggio e ricevendo doni in natura, uova, frutta, legumi, grano. Questa usanza, chiamata Verde Giorgio, era diffusa in molti centri del Molise, soprattutto nelle comunità slave di Acquavio, Monte Mitro, San Felice. In Abruzzo si ha documentazione del rituale, in alcuni paesi tra cui Atessa. L'usanza veniva chiamata anche Maio, appunto perché rappresentava maggio e i giovani, il primo giorno del mese, portavano in giro questa personificazione di maggio tutto verde, eseguendo un canto di questo che comunemente iniziava con questi versi. C'ha detto che maggio non è venuto, esci fuori e lo trovi vestito. Maggio ha portato a voi belle giornate. Io vedo i rami degli alberi pieni di fiori, io vedo i vostri prati pieni di erba, io vedo le vostre pecore piene di lana. Il Signore guardi la salute a voi e ai vostri figli, la salute anche dei vostri paesi. Si tratta di riti ormai scomparsi, o meglio, sostituiti dalle celebrazioni moderne del primo maggio, anche se residui possono riscontrarsi in più occasioni, come nell'albero di maggio che in molti centri del Terramano, a Nereto in particolare, viene piantato con significato nuovo rispetto all'antica cerimonia agraria della fertilità. C'è però ancora un paese che il primo maggio si raccoglie tutto intorno alla sua arcaica celebrazione del Maio, al punto che in questo giorno tornano anche molti emigranti in una atmosfera di grande gioia collettiva. Il paese di cui parliamo è San Giovanni Lipioni, posto su uno sperone che si protende verso il Medio Trilio. San Giovanni Lipioni è uno degli ultimi comuni della provincia di Chieti, con la vicina Schiavi d'Abruzzo, e si trova proprio di fronte a quelle comunità slavofone del Molise in cui il rituale del Verde Giorgio fino a qualche decennio fa era assai diffuso. San Giovanni Lipioni, paese dalle incerte origini, è abitato da poco più di 500 anni. Si distende su un'altura, in un paesaggio di morbide ondulazioni dove le macchie chiare dei seminativi si alternano a rari boschetti. A San Giovanni Lipioni, la festa del Maio sopravvive con tutto il suo carico di simboli e di significati antichi, come dichiara il sindaco prima che la comitiva inizi il giro del paese per annunziare la bella stagione. Il corteo, che parte dalla chiesa, è aperto da un giovane con in testa una ghirlanda intrecciata di fiori, di spighe di orzo e di grano, di baccelli di fave e di altre primizie. La manifestazione del Maio si inserisce nei festeggiamenti di Santa Liberata e San Giovanni, le cui statue, il primo maggio, vengono trasferite dalla chiesa principale di Santa Maria delle Grazie alla Cappella di Santa Liberata, ubicata a circa un chilometro dal paese. E detta cappella è considerata la residenza estiva dei Santi. Infatti, vi restano fino ad ottobre. La manifestazione del Maio può definirsi come una tradizione di origine mista diritto paganico e religioso. Il Maio è costituito da un'intelaiatura in legno, costituito da un bastone con un cerchio rivestito di mazzette di fiori, circa mille mazzette. Anticamente, veniva realizzato per iniziativa di tre o quattro persone appartenendo alle famiglie più medestre dell'abitato che il giorno antecedente al primo maggio raccoglievano i fiori in campagna, preparavano il Maio e la mattina, in processione, il Maio con le statue dei Santi veniva accompagnato in questa Cappella di Santa Liberata. Qui veniva celebrata la Messa, veniva benedetto e poi riportato, diciamo, in paese. Questi fiori rappresentano un po', diciamo, in generale, il raccolto della terra e col simbolo del Maio intendevano chiedere ai Santi la protezione sul raccolto. Quindi, nel pomeriggio, il Maio veniva portato in giro per le strade del paese e in ogni famiglia veniva offerto un mazzetto di fiori. La tradizione del Maio poi cessò col venire meno di queste persone per l'avanzata età e per molti anni non è stato più preparato. Nel 1981, per iniziativa del Comitato Fest, fu ripristinato con l'aggiunta che nel girare per il paese oltre al Maio e, diciamo, gente, c'è la banda che accompagna con delle marcette e viene recitato ugualmente qualche canto dai giovani. quindi il primo anno riscosse una grande parte, molto consenso da parte della cittadinanza e ci fu una grande partecipazione per cui è stato poi continuato ogni anno e adesso con la costituzione della Proloco da qualche anno fa è la Proloco che patrocina questa manifestazione. Ogni famiglia nel ricevere questi fiori, questo omaggio ricambiava con offerte principalmente oltre a offrire un rinfresco a chi portava il Maio offrivano delle uova e quindi il ricavato di queste uova costituiva il compenso per questi anziani per questa gente che realizzavano il Maio il compenso per il tempo dedicato a quella manifestazione. Adesso c'è una trasformazione cioè le uova che vengono raccolte quindi la tradizione dell'offerta è restata le uova che vengono raccolte il giorno successivo o il sabato successivo al primo maggio viene realizzata una frittata in piazza pubblica dove partecipa tutta la gente quindi un'altra serata di feste lo spunto per ritrovarsi quindi mangiare sta frittata realizzata con le uova offerte dei cittadini più offrono anche da bere in ogni caso c'è quello che è veramente apprezzabile quindi ha diciamo stimolato a continuare la partecipazione della gente nell'offrire ognuno gareggiare ognuno offrire a questa gente che gira col Maio la comitiva del Maio preceduta dalla banda musicale si ferma dinanzi alle case dove viene cantato qualche verso di un vecchio canto di maio al saluto e all'augurio del buon raccolto si fa seguire la richiesta di doni in genere uova ma anche vino dolci prosciutto salami formaggio ad ogni padrona di casa viene consegnato un mazzetto di fiori staccato dalla ghirlanda noi che abbiamo un'età siamo trovati questa tradizione e così ce lo portiamo anche con i nostri figli si faceva bello allora si faceva lo maio si cantava le frasette si faceva tante cose belle era tradizione che si faceva allora e auguri dentro la famiglia che avevano un figlio e una nuora c'era l'annata che corrispondeva alla buona annata e poi c'era le volte pure che non non veniva la buona annata pure a volte diceva come è pesante la costa di maggio perché perché non ci stava da mangiare si mangiava le patate si mangiava la roba di pizza di grandin diciamo così è una tradizione antica è una tradizione antica io ho 80 anni quindi si è sempre fatta si festeggia con i fiori la primavera si metteva sulla sulla croce una spiga di grano una una cosa di fave tutta la rappresentazione del raccolto dell'anno anticamente si è fatto sempre così i vecchi antichi cantavano questa canzone dice venga 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 maggio e viene di buon anno e in questa casa ci ha da andrà una nora santa liberata gli darà la benedizione ma il signore la con la la compagnia la compagnia il primo papà questa raccoglie capito ma cosa ti devo dire quella è una testa tradizionale di noi altri vecchi che l'abbiamo sempre fatta adesso lo vogliono abbandonare perché vengano venga avanti vengono di buon anno padone mio ti voglio arricchire secondo il nome delle persone che gli fa la frase e così ci fa la frase la sì in questa casa se ci sono due figli in questa casa ci deve entrare due nuore santa liberata gli possa dare la benedizione e la sorta buona eh vedete le sprofette si dice apprissa mai si deve la scienza che l'ugrana ha spiegato l'ugrana ma comenza l'or già ha spiegato l'ugrana ma comenza c'era un poveretto che cantava a quei tempi si diceva la cantonetta e questi lo facevano quasi per le mosse in questa festa lo facevano e così cantavano quelle cantonette a Borsese maggiormente perché faceva piacere alla popolazione normale diceva in questa casa c'era 37 e 9 diciamo per se quelli che hanno quella famiglia se te dice non è la buona ci può andare a cavallo se non ci può starci la coccia a cavallo è un maio che è una bella giornata effettivamente so almeno io e i miei amici che siamo qui a San Giovanni sono ben 21 22 anni che stiamo in questo comitato festa siamo contenti di esserci siamo credenti della chiesa Santa Maria delle grazie e più che siamo contenti e ringraziamo con tutto il cuore i nostri compaesani che sono allontanati da San Giovanni per motivo di lavoro per motivi di famiglia però in queste circostanze vengono in mezzo a noi a farci compagnia per noi quella è l'allegria più grande che abbiamo e più che siamo contenti che in questa giornata ne facciamo tanto mangiare e bere bicchiere su bicchiere la sera non ci riconosciamo l'uno con l'altro è perché il vino è dell'uva è un vino troppo buono la tradizione è stata ricominciata ripresa circa dieci anni fa gli anziani ricordano ben volendieri queste tradizioni queste manifestazioni però io a memoria d'uomo nella mia infanzia non ricordo una manifestazione di questo genere ho avuto l'occasione di di esserci a contatto nell'anno 81-82 e mi è piaciuto è un simpatico perché è un modo per stare in mezzo alla gente per confrontarsi con la gente è un modo per vedere anche molti anziani che spesso non escono di casa in queste occasioni si fanno trovare ben volentieri davanti alla loro porta di casa ci offrono i loro doni ci offrono anche il loro ringraziamento per i fiori che noi diamo Franco Monaco è un emigrante che ogni anno rientra a San Giovanni Lipioni per partecipare al Maio di cui è principale animatore sono stato il promotore per ripristinarlo questa festa e io ho ripartito dalla Guinea per venire a fare proprio questa festa del primo maggio perché me lo senti è una festa che i nostri andenati lo facevano una tradizione bella io ho ripartito in Africa dalla Guinea per ritornare a fare il primo maggio a San Giovanni ritorno per portare il maio io personalmente e di far riconoscere ai giovani che questa è una tradizione che bisogna portare avanti perché è bella perché è una festa di partecipazione e niente per me è tutto siamo venuti a cantarmaggio era il ritornello che riecheggiava nelle contrade abruzzesi la mattina del primo maggio quasi che attraverso i canti le danze e l'allegria collettiva che ne seguiva volesse immettersi nei e nella speranza degli uomini la ricchezza dei beni futuri i doni che si ricevevano aiutavano una volta sia ad alleviare la fatica delle lunghe giornate di lavoro che a compensare la fine delle scorte invernali nel mese più duro chiamato Costa di Maggio una celebrazione popolare antica dunque quella di San Giovanni Lipioni secondo un modello assai distante da quanto accade oggi e da quei riti moderni così lontani dalle ragioni della natura la terra il seme la pioggia i frutti il raccolto e da quegli strumenti che la cultura contadina aveva per far avvertire le loro necessità naturali forse questo è il motivo per cui feste semplici come quella del maio di San Giovanni Lipioni ci coinvolgono e danno la capacità di mettere in discussione il nostro modo di essere nella storia dei nostri giorni di San Giovanni di San Giovanni Grazie a tutti. Grazie a tutti.